Sono venuti con una palanga di Alfa Romeo, tutte splendide, una più splendida dell'altra. Io chiamo qui per consegnare un ricordo di questa giornata Mario Grespan del club Treviso Autostolico. Una persona che ci spende tantissimo, una persona che spende per noi sempre parole molto belle, molto gratificanti, nelle quali noi comunque troviamo motivazione per andare avanti, ma soprattutto una persona veramente straordinaria. Anche per lo sforzo di radunare e di portare oggi a questo nostro evento una così impressionante delegazione di Alfa Romeo. Grazie veramente. Sì, siccome abbiamo acquisito un nuovo soggio che corre nella mia scuderia, lui corre da cinquant'anni, ha corso e corre con le Abarth, magari autostoriche, però ha avuto anche occasioni di corre con le Alfa e ha vinto la classe Gran Turismo nell'88 la mitica Coppa Italia, una Giulia Spalter. Per cui abbiamo fatto un quadretto con un'immagine della macchina in salto su una prova di codi urani e lo doniamo agli amici del club Stile Alfa Romeo, il ricordo di questo rumore. Si conosce anche il franello che si intubi pó, il juro da runt, di участeman, di codice, i tre bajianni, e i tre bajianni. Tutti i tre riziani. Devo ringraziare il mio presidente Giorgio che mi ha invitato a questa opportunità di essere con voi i massimi tifosi dell'Alfa Romeo io come pilota appunto mi rappresenterò da 50 anni sono appartista però ho avuto l'occasione l'invito di gareggiare anche con l'Alfa Romeo ho solo in attivo con l'Alfa due gare però ho due lane code una o due ognini di Valle Lunga in pista con CTA negli anni 75 e nell'88 nell'88 la Coppa d'Italia come hanno già parlato loro con la Giulia la Giulia da Porta Peccanica Giulia 26 grazie e all'appuntamento alla prossima applausi 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 e all'appuntamento alla prossima applausi applausi a applausi applausi applausi